Ciao a tutti, la star di Twilight, Cullen Lutz, nel cast di The Expendables 3, dopo il video. Cullen Lutz è in trattativa per entrare nel cast di The Expendables 3, nuovo capitolo della saga di Sylvester Stallone. La giovane star avrà la parte di uno dei membri di un team rivale di quello capitanato da Barney Ross. Se gli ultimi negoziati avranno successo, Cullen Lutz affiancherà Mila Jovovich, Wesley Snipes e Jackie Chan. Confermatissimi invece Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jesus Tatham e Jet Li. Gli ultimi rumors vorrebbero nel cast già stellare Mel Gibson, Nicolas Cage e Steven Seagal. Sarà vero? Staremo a vedere. The Expendables 3 sarà diretto da Patrick Hughes e arriverà nelle sale americane il 15 agosto 2014. E per oggi è tutto, ricordatevi di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook FilmIsNow. Ciao e alla prossima! Ciao!